sono ancora a malè mi hanno spostato dai conigli mi hanno portato sotto questo albero centenario di canada trattato biologicamente con la prova che c'è un fungo qua sopra che io sto toccando col dito per cui qui i trattamenti sono biologici e cos'è che si chiamano per evitare la ticchiolatura le nostre mele sono ticchiolate se vi interessa ma qui a malè però guardo anche qualche volta la televisione la sera guardo la televisione e mi sono domandato ma quante persone guarderanno la televisione al di sotto dei 25 30 anni mi sono posto questa domanda perché l'altro giorno andando qui per stato e conoscevo incontrato dei miei conoscenti e altre persone con figli figli che uno aveva 20 anni l'altro appena sposato eccetera eccetera ma non credo più di 25 anni sposati molto giovani cosa che mi è sembrata strana ma insomma così era e ho domandato per una curiosità lei ha visto il telegiornale con la berlinguer mi scusa signor ma a dire la verità non so neanche chi è la berlinguer no dico scusi non ci posso credere no no dice guarda io non credo e poi si è rivolto ad altri così si sono parlati tra di loro nessuno di questi ragazzi conosceva la berlinguer tanto per parlarsi tale allora mi sono chiesto ma non è che qua noi siamo in tre mondi diversi cioè il mondo al di sotto dei 30 anni al mondo dai 30 ai 50 e il mondo dai 50 al su perché è difficile poter identificare comunque comunque sia questi telegiornali della rai sono poco guardati allora domanda 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 ma è possibile che esistano tre canali rai tg1 tg2 tg3 e news come si chiama news news 24 e sì perché quando il papa gira non è che decidono il direttore il papa gira va il tg1 no e te può immaginarti alla luce del risparmio va il tg1 tg2 tg3 e anche l'altro poi tanto perché dicono che sono sempre critico ma ve pare possibile che si sposta il presidente del consiglio e va già giusto scusi gala sotto calmi che il microfono è qui se vi interessa quindi se lo tocco è un urlo di là tranquillo non lo tocco più anche se c'è qualche osservazione caro mio te fadoci che non vi dico va bene veniamo torniamo a noi olimpiadi tg1 tg2 tg3 anche news ancora che fosse un altro ma io mi domando ma io mi domando sky manda tre sky mediaset ne manda tre no allora perché non siamo capaci ente pubblico di copiare dal privato una volta tanto perché qui c'è sempre stata la mania di demora la televisione di stato perché se no qui perché se no la ma non è mercato delle vacche ma non è un mercato delle vacche questa tg1 sì o no è una vergogna è una vergogna adesso la tragedia perché è la berlinguer dopo sette anni è stata esclusa e poi la ciappe la metterà con santoro il rimpesterà eccetera eccetera ragazzi il mondo non è fatto di berlinguer e da qui a 15 anni quando questi ragazzi che ne hanno oggi 25 saranno le persone che hanno 45 anni come sarà la storia e noi saremo già da un'altra parte qui secondo il mio parere questa televisione questo sistema di informazione non può continuare così freccero chi ha visto freccero benedetti fiol buon fiol per l'amor di dio e cacciari e travaglio e feltri e sapienza e cuperlo e bersani e sallustri e la santa anche se non che la santa che non si può andare avanti senza santa che sì e poche monti che l'altro giorno l'ho visto sembrava che morisse da un minuto all'altro poche bel pietro e poi che il ferrero del sindacato e poi bertinotti che poi bertinotti che quella sinistra che l'hanno ripreso dietro una libreria meravigliosa con una scrivania che non vedeva poveretto miseria nera proprio lui che viene dal sindacato e quindi dovrebbe presentarsi come minimo con le braghe rotte invece si presenta la con la libreria e tutto mi sa tanto di 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 sinistra chic una sinistra che vuole essere di sinistra ma non è capace una destra che invece mi pare che ha totale fallimento ma una cosa volevo dire avete visto cosa è successo in spagna l'avete visto o no permette non l'avete visto bene è la seconda volta che vanno le elezioni la seconda volta che non sono riusciti a come che butto via calatazina che cosa è successo è successo che dopo tutte queste tentativi il ministro di una corrente politica e l'altro si sono telefonati se ci sedessimo un tavolo e ci mettessimo d'accordo per vedere di risolvere i problemi della nazione 2 3 4 e lasciamo stare tutto il resto vedete la megina e la me pia quelle due lì se le mettessero a governare faria gran presto perché le ciammeria qui dei cinque stelle le ciammeria qui a te diria com'è la storia delle pensioni sediamoci un tavolo risolviamo il problema delle pensioni vi assicuro che il premio di produzione ai dirigenti come stanno dando in questi giorni a trento ancora non glielo darebbero di certo no di certo e anche queste trasmissioni la rai è pagata dal popolo dai utenti e chi sono questi utenti lo ripeto per l'ennesima volta ve l'ho detto ma è fatta da persone da lavoratori che possono essere lavoratori ingegneri lavoratori ma da gente ci si non che lavorati ma la maggior parte sono della gente che lavora tutto il giorno che non gasti stavo per dire una parola che comincia per cisti cagessi come si dispone in testa no e allora queste donne qui si sedevano un tavolo e dire vediamo un po' quali sono i bisogni reali del paese e non girare questi chi dei cinque stelle in giro in moto per dire che bisogna votare di no ma la tragedia di questo momento politico per conto mio e che è stato anche prima è che non si vota per il problema ma si vota per buttare giù renzi o per buttare giù berlusconi invece si dovrebbe dire il senato va bene o non va bene è vero o non è vero che ci vogliono 400 giorni come minimo per far passare una legge che magari una legge urgente è una legge che va applicata immediatamente se non ci abbiamo il senato abbiamo un unico parlamento e forse in 100 giorni passa una legge allora su questo dobbiamo discutere è meglio i 400 giorni o è meglio i 100 giorni poi se le renzi non me ne frega niente capite che non me ne frega niente e non gliene frega niente neanche ai ragazzi di 25 anni questo è il punto noi siamo pronti per la sepoltura mia non so ancora perché il gala se il parisi gli si è messo in mente di chiamarmi a fare queste trasmissioni non lo so non lo so io credo io credo io credo che adesso noi ci troviamo in una situazione in cui la rai la rai si deve dare una registrata perché io credo che oggi la rai vada privatizzata si prende si vende abbiamo venduto telecom hanno venduto e ora definirla di sinistra e di destra la rai parla solamente del referendum e allora ha messo dentro renzi ha messo dentro i suoi quei altri rabiosi poi altre cose cooperlock parla d'aristocratico sembra un nobile fallito che ancora parla con la r addirittura ma dai ragazzi il trentino si diviso dai peri venite giù dai peri la gente non vi segue ma soprattutto dovete preoccuparvi di una cosa signori politici che il mondo tra qualche anno è più rapidamente di quello che pensate vi taglia fuori perché non vi voterà più nessuno perché i giovani che hanno 25 anni oggi o 20 tra dieci anni ne hanno 35 e voi che ne avete 70 80 sarete dall'altra banda saluti 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 saluti